Il ciclo di smaltimento dei rifiuti in provincia di Salerno rischia di bloccarsi per almeno una decina di giorni a provocare il blocco. L'improvviso incendio sviluppatosi ieri sera all'interno dello stir, il trito vagliatore di Battipaglia, nel quale i rifiuti vengono pretrattati prima di essere inviati agli impianti di smaltimento finale o comunque al trasferimento fuori provincia e fuori regione. Le fiamme, forse di origine dolosa, anche se saranno le indagini dei carabinieri a chiarirlo, hanno mandato in fumo due nastri trasportatori in gomma appartenenti alle due differenti linee di produzione dello stir. Ad accorgersene è stato un dipendente della struttura che nella giornata di ieri tra l'altro era ferma. Sul posto ieri sera i vigili del fuoco che hanno subito attivato l'impianto interno di antincendio per spegnere le fiamme. Anche i carabinieri che sono stati su con noi per oltre un'ora hanno constatato che effettivamente non si riesce a capire la causa. Sta di fatto che anche se ci sono stati dei focolai disparati, quindi non omogenei, questo dipende anche dal fatto che il rifiuto è distribuito sui vari nastri. Per cui lei si pensa che nei rifiuti troviamo di tutto, anche boccette di profumo che possono ovviamente inquinare e auto bruciarsi. Sono stati ahimè interessati i vagli, che sono appunto i vagli per la triturazione, la separazione del rifiuto, e i nastri trasportatori. Spero che i motori dei vagli siano integri e quindi questo ci permetterà di accelerare le pratiche di ripristino. Problemi quindi per i comuni della provincia di Salerno che dovranno far ricorso ai propri impianti di stoccaggio provvisorio per evitare che la spazzatura rimanga per strada. Ci siamo già attivati con l'ufficio flussi della regione Campania per cercare e chiedere solidarietà alle altre province per dirottare almeno parte dei rifiuti lì agli stir di Casalduni, Piano d'Ardine, Santa Maria anche, Capo Avetere, quel di Caserta. L'incendio impedirà almeno per ora e quindi per una decina di giorni qualsiasi attività all'interno dello stir anche di semplice stoccaggio? Nel piazzale lo stoccaggio si fa delle balle filmate, imballate, quindi a prova di pioggia. Quindi poiché le balle non possono essere prodotte non si può fare stoccaggio nei piazzali ulteriori. Neanche i conferimenti possono essere fatti, ahimè, da parte dei comuni perché essendo saltato l'impianto elettrico è chiaro che anche le benne per movimentare i rifiuti in fossa al momento non sono utilizzabili. Grazie.